Esercizio, un carrello sale su per un piano inclinato, inizialmente in posizione A, con una molla compressa, la molla lo spinge e giunge fino al punto C, dopodiché torna indietro. Lungo il piano inclinato è disposta una riga millimetrata che parte da 0, in posizione A siamo a 10 cm, in posizione C 25 cm, la posizione B è la posizione di riposo della molla, 15 cm. Dunque, molla compressa 10 cm, molla riposo 15 cm, massima distanza raggiunta sul piano 25 cm. Conosciamo la massa del carrello 2 kg, l'angolo alla base del piano 30 gradi e il coefficiente d'attrito dinamico 0,20. Le domande sono la tabella solita da riempire con tutti i valori numerici, con le varie forme di energia, nelle varie posizioni ABC. L'analisi delle varie trasformazioni di energia, il lavoro che fa la molla sul carrello mentre lo spinge da A a B, la costante elastica della molla e la massima velocità del carrello che capiamo è la velocità nel punto B, cioè al termine della spinta della molla. Dopodiché il carrello rallenta sia perché c'è l'attrito sia perché sale lungo il piano. Cominciamo con la tabella, le tre posizioni ricordano il moto del carrello, quindi ABC e sulle righe le forme di energia cinetica, gravitazionale, elastica e la somma di tutte e tre l'energia meccanica. Diciamo subito che l'energia meccanica non si conserva, dopo vedremo anche i valori numerici, perché c'è l'attrito che trasforma l'energia meccanica in parte in calore, cioè energia termica. Cominciamo a sistemare gli zeri nella tabella, la riga dell'energia cinetica mettiamo lo 0 in A e in C perché il carrello parte da fermo e si ferma anche nel punto C. Sulla riga dell'energia gravitazionale non mettiamo mai lo 0 perché il carrello ha sempre una certa altezza, HA, HB e HC. Il livello 0 lo prendiamo rispetto alla base del piano. La riga dell'energia elastica non è 0 soltanto all'inizio quando la molla è compressa, dopodiché l'energia elastica della molla è 0 da B in avanti, quando ormai la molla si è scaricata di energia. I tre valori di energia gravitazionale li possiamo calcolare subito, perché noi conosciamo le tre posizioni del carrello lungo il piano, 10, 15 e 25 cm, e possiamo ricavare l'altezza A, l'altezza B e l'altezza C. Cominciamo con l'altezza A, per semplicità immaginiamo che il carrello sia un punto materiale che si trova all'inizio, nel punto A, a 10 cm dall'inizio del piano. Noi dobbiamo cercare questo cateto, che è l'altezza A, che è il cateto opposto all'angolo α di 30 gradi. L'ipotenusa è lunga 10 cm, quindi il cateto opposto all'angolo è l'ipotenusa per il seno dell'angolo. Siccome il seno di 30 gradi vale 0,5, quindi un mezzo, abbiamo 5 cm, l'altezza di A. L'altezza di B facciamo lo stesso calcolo, con l'unica differenza che la posizione B si trova a 15 cm da O, e lo stesso la posizione C a 25 cm da O. Quindi l'altezza di B è 15 cm per il seno di 30 gradi, l'altezza di C 25 cm per il seno di 30 gradi, il seno di 30 gradi è un mezzo, quindi il risultato è 7,5 cm, 12,5 cm. Avendo calcolato le tre altezze H A, H B e H C, possiamo calcolare le tre energie gravitazionali. In A, in B e in C, Mg H A uguale a Mg, sarebbe il peso del carrello, il carrello ha la massa di 2 kg, quindi pesa 19,6 N. Quindi Mg peso del carrello per 5 cm, 0,05 m, il risultato è 0,98 N per metro Joule. Facciamo la stessa cosa in B, quindi Mg H B, questo Mg H B, 1,47 Joule, e lo stesso in C, Mg H C, e il risultato è 2,45 Joule. Questi tre numeri, 0,98, 1,47, 2,45, li scriviamo sulla riga dell'energia gravitazionale. Queste due caselle colorate in verde ancora non le abbiamo calcolate, i valori. Possiamo però utilizzare la colonna C per calcolare l'energia meccanica nella posizione finale C, quindi 0 più 2,45 più 0, 2,45 Joule. Sarebbe un errore ricopiare 2,45 Joule in tutte queste caselle dell'energia meccanica, perché abbiamo detto che l'energia meccanica non si conserva per colpa dell'attrito. Calcoliamo l'energia meccanica nella posizione B. Tra B e C agisce l'attrito e il lavoro della forza d'attrito, il lavoro resistente, si mangia un po' di energia meccanica. Quindi noi adesso andiamo a calcolare quanto lavoro fa l'attrito tra B e C. Vedremo che fa 0,34 Joule di lavoro resistente e questo lavoro è energia in transito, cioè energia che passa dalla forma meccanica alla forma termica, cioè calore. Questo vuol dire che in B c'era più energia meccanica che in C, c'era precisamente 0,34 Joule di energia meccanica in più. Quindi per sapere l'energia meccanica in B bisogna sommare 0,34 Joule all'energia meccanica in C e quindi otterremo 2,79 Joule. Questi 2,79 Joule possiamo vederli anche così che quando il carrello passa da B a C si perdono 0,34 Joule di questa energia meccanica che vanno in calore e quindi l'energia meccanica che rimarrà in C sarà 2,79 Joule meno 0,34 Joule, quindi 2,45 Joule. Adesso vediamo come viene fuori questo numero 0,34 Joule. Dobbiamo calcolare il lavoro che fa l'attrito tra B e C, lo calcoliamo in modulo e questo valore positivo rappresenta quanta energia meccanica si è trasformata in calore, cioè in energia termica per colpa dell'attrito tra B e C. Il lavoro dell'attrito lo calcoliamo forza per spostamento, per il coseno dell'angolo tra la forza e lo spostamento. Possiamo usare questa formula perché la forza d'attrito è costante. La forza d'attrito in questo caso è dinamico, si calcola coefficiente d'attrito dinamico per la forza normale. La forza normale è la forza che schiaccia il carrello contro il piano inclinato e in questo caso è la forza peso perpendicolare. Questa componente della forza peso è la diacente all'angolo alfa, infatti l'angolo di 30 gradi me lo ritrovo qua e la componente perpendicolare della forza peso quindi la ricavo moltiplicando la forza peso mg per il coseno di alfa. Quindi forza normale, forza peso perpendicolare, mg coseno di alfa, 19,6 N nella forza peso, coseno di 30 gradi fa 17 N. Questa quindi è la forza normale, Fn che io devo moltiplicare per il coefficiente d'attrito dinamico e così trovo la forza d'attrito. Il coefficiente d'attrito dinamico per la forza normale è 3,4 N. La forza d'attrito, 3,4 N, la vado a sostituire qui. BC è lo spostamento che è stato di 10 cm, da 15 a 25, quindi 0,10 m. e l'angolo tra la forza d'attrito e lo spostamento è di 180 gradi, cioè π radianti. Infatti la forza d'attrito tira verso giù, verso sinistra, mentre invece lo spostamento da B a C avviene verso destra. E questo coseno di π è responsabile del lavoro resistente, infatti fa meno 1, e perciò avviene il lavoro dell'attrito negativo. Quindi questo meno è il meno 1 del coseno, poi forza d'attrito per lo spostamento, meno 0,34 J. Ecco quindi com'è venuto fuori questo meno 0,34 J. E di conseguenza il calcolo dell'energia meccanica in B, che è 0,34 J di più di quella in C, cioè è 2,79 J. Come abbiamo detto prima. Ora calcoliamo l'energia meccanica in A, che è ancora di più di quella in B. E è più di quella in B, esattamente di 0,17 J, che è il lavoro resistente, che fa l'attrito tra A e B. Quindi procediamo come prima, calcoliamo il lavoro dell'attrito tra A e B, lo calcoliamo direttamente in modulo, quindi forza d'attrito per spostamento, 3,4 N, lo spostamento è stato di 5 cm, 0,17 J. Del resto è logico che viene un lavoro dell'attrito tra A e B, che è la metà di quello tra B e C. Infatti 0,17 J è la metà di 0,34. È logico perché tra A e B lo spostamento è stato solo di 5 cm, la metà che tra B e C 10 cm. Quindi l'attrito ha agito per un tratto che è lungo la metà. E quindi ha fatto metà del lavoro che invece farà tra B e C. Di conseguenza all'inizio, nel punto A, l'energia meccanica era 0,17 J di più rispetto all'energia meccanica in B. E quindi era 2,96 J. Dunque rileggiamo al dritto l'ultima riga dell'energia meccanica. Abbiamo 2,96 J in A, in questo punto. Lo vediamo meglio qui, quindi 2,96 J in A. Poi tra A e B l'attrito fa 0,17 J di lavoro resistente, quindi l'energia meccanica calla di 0,17 J. 2,79 J in B, tra B e C il lavoro dell'attrito è di 0,34 J, quindi l'energia meccanica calla di altri 0,34 J e si porta a 2,45 J. Ora che abbiamo riempito l'ultima riga, mancano queste due caselle colorate in verde e le troviamo subito per differenza. 2,79 J meno 1,47 J ci dà 1,32 J che è l'energia cinetica del carrello in B, quindi in questo momento. E sempre per differenza 2,96 J meno 0,98 J abbiamo 1,98 J che è l'energia elastica della molla compressa in A.